La mafia uccide il silenzio pure, un progetto voluto dal liceo statale Giuseppe Rechiche di Polistena e dall'associazione Girolamo Marafioti con il patrocinio della città metropolitana. Le cinque sessioni di approfondimento e di studio sul fenomeno criminale prenderanno inizio il prossimo 15 novembre e si concluderanno il 15 dicembre. Tanti gli ospiti della rassegna divulgativa antimafia, direttore scientifico dell'evento e il giornalista Arcangelo Badolati. Animatrice della rassegna, la dirigente scolastica Francesca Maria Morabito e il presidente dell'associazione Girolamo Marafioti, Piero Cullari. L'iniziativa nasce nel momento in cui ho avuto un incontro con Arcangelo Badolati, caporedattore della Gazzetta del Sud di Cosenza e assieme abbiamo ragionato su questo argomento, su questo triste argomento e abbiamo ritenuto opportuno arrivare nelle scuole. Io ho accettato subito l'invito di Arcangelo e abbiamo deciso di presentare appunto questa serie di incontri che verranno fatti con la liceo Rechichi di Polistena, che ringrazio la dirigente Morabito perché riteniamo che sia il luogo più idoneo dove noi possiamo affrontare questi problemi. Dobbiamo partire dalla base e per noi la base sono i giovani per dare un messaggio importante. La mafia uccide il silenzio pure. La lotta alla mafia che si fa soprattutto combattendo la subcultura che è collegata alla mafia. Prima fra tutti appunto l'omertà, l'incapacità da parte dei cittadini di assumere consapevolezza e quindi responsabilità ed agire conseguentemente rispetto ai fenomeni mafiosi che sono fenomeni che si alimentano proprio dall'omertà, dall'arroganza, dalla presunzione dei favori. E quindi in questo senso questa rassegna che noi abbiamo voluto insieme all'Associazione Marafioti anche attraverso un protocollo d'intesa magistralmente, diciamo, composta dalla direzione scientifica di Arcangelo Badolato vuole dare ai nostri ragazzi un'ulteriore opportunità di riflessione, di meditazione sul fenomeno mafioso in generale ma soprattutto sulla consapevolezza che la legalità è parte fondamentale della libertà.